Happy birthday Mr. President, happy birthday to you Certamente anche a Bersani E auguri per domani allora Grazie Compleanno importante è quello della CGL che cade nel giorno in cui è il compleanno anche di Berlusconi e Bersani, qual è il più importante? Ovviamente il più importante è il nostro, cade nel giorno in cui abbiamo appena consegnato alla Camera dei Deputati più di un milione di firme su una nostra proposta di legge e di iniziativa popolare che vuole ripristinare i diritti e le tutele in capo a tutte le persone che lavorano e superare tutte le differenziazioni e le precarietà che si sono costruite in questi anni Quindi tanti auguri alla CGL allora Grazie Oggi è una giornata di compleanni, vogliamo fare degli auguri? A Berlusconi o a Bersani? A tutte e due Mi ha beccato subito A tutte e due allora A tutte e due Non è anche oggi il suo compleanno, no? No, no, non è il mio compleanno e credo che di compleanni importanti ce ne siano Quello di Totti è importante, io sono laziale, però gli auguri glieli faccio e glielo ho fatti anch'io E sono anche per il raddoppio di età a fargli auguri a Berlusconi e per... E Bersani? Anche Bersani, assolutamente Allora noi in Italia siamo un paese in cui c'è un sacco di gente che comincia per Ber Bersani, Bertinotti, Berlinguer, Bergoglio Berlusconi E Berlusconi Grazie 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 Grazie